Musica Oggi il cibo, i controlli, la sicurezza e quindi la nostra salute a tavola. Cosa rischiamo quando mangiamo fuori casa, in ristorante oppure in altri luoghi, alle mense? Quali controlli si fanno perché questo pericolo, questo rischio non avvenga? Ma quanto è ancora difficile che il mondo della ristorazione e che gli operatori del settore alimentare rispettino tutti i protocolli prescritti? Per parlarne con noi uno specialista quotidiano medicina, Claudio Mucciolo, medico veterinario, dirigente ASL e consigliere dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia italiana e i medici veterinari che sono, ricordiamo, i controllori, i guardiani di tutti i cibi di origine animale. Ogni anno, secondo i dati, gli ultimi dati forniti dall'OMS, ogni anno una persona su 10 si ammala per aver mangiato cibo contaminato. 420 mila all'anno muoiono per indossicazione alimentare, di cui 125 mila sono bambini sotto i 5 anni nei paesi africani, nel sud-est asiatico. Negli Stati Uniti vengono stimati 76 milioni di casi di malattie alimentari, praticamente un americano su 4. In Francia 200 mila all'anno, con decessi tra 200 e 700 ogni anno. Il 90% causati da Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes. Situazione in numeri quasi analoghi per la Gran Bretagna. In Italia vengono rilevati 300 mila casi all'anno, ma i dati sono sottostimati. Gli epidemiologi ritengono che il 90% degli episodi di malattie alimentari provocate da contaminazione del cibo sfugge all'attenzione delle autorità sanitarie e suggeriscono di moltiplicare per 5, se non addirittura per 10, il numero degli episodi di malattie tossiche alimentari emersi all'attenzione dei medici, se si vuole ottenere un dato realistico. I principali patogeni sono, abbiamo detto, il Campylobacter, il Clostridium, l'Escherichia coli, la Listeria, la Salmonella, lo Staphylococcus aureus ed il Toxoplasma, responsabili nel mondo ogni anno fino a oltre 12 milioni di casi di intossicazione alimentare con 3.900 decessi, il tutto dovuto agli stili di vita e dalle scelte alimentari del consumatore. Numeri impressionanti, quindi, bisogna stare attenti. Dottor Mucciolo, diciamo subito quali sono gli alimenti attraverso i quali noi incorriamo più frequentemente nelle intossicazioni alimentari. Dunque, ha detto bene lei, caro dottore, a fare quindi una panoramica di questo. Gli alimenti più coinvolti di origine animale sono i prodotti della pesca o i derivati del pesce, si aggira intorno al 24%. Poi abbiamo i prodotti carni, i derivati della carne, si aggira intorno al 19%. Poi abbiamo i prodotti a base di uova o derivati dall'uovo, intorno al 13%. Poi abbiamo i derivati del latte, intorno al 9-10%. E poi abbiamo i vegetali. I vegetali ultimamente stanno aumentando di più, forse perché stanno aumentando i controlli. Per molti anni il controllo su questo alimento, su questo tipo di alimento fresco, era stato un po' accantonato o abbandonato. Queste sono le casistiche che ci vengono date dai dati ufficiali, dai centri statistici epidemiologici nazionali ed internazionali. Probabilmente perché i controlli sono aumentati, quindi è aumentata la casistica. I controlli sono aumentati e per quanto riguarda i controlli fatti dal servizio veterinario nell'ambito dell'ASL, in questo contesto l'ASL di Salerno, entra il Dipartimento di Prevenzione. Nel Dipartimento di Prevenzione ci sono due figure fondamentali, l'area medica e l'area medica veterinaria. Questi dovrebbero, anzi a Salerno, collaborano abbastanza bene per pianificare i controlli che vengono poi dati dalla regione nell'ambito degli accordi Stato-Regione a livello nazionale. Ecco, noi vediamo alcune immagini che scorrono, che si riferiscono a mense scolastiche, mense aziendali, ristoranti, le vedremo scorrere mentre parliamo, ce le mando in onda Mario Argentino dalla regia. In quali ambienti noi contraiamo con maggiore frequenza queste malattie alimentari? Vede, l'ambiente più contaminato o che più è preso in considerazione per la trasmissione di queste malattie sono proprio le abitazioni private, si arriva al 52%, perché? Uno sembra strano direi l'abitazione privata, uno pensa, ma il problema sta nella formazione, nella conoscenza di alcuni principi basi, per esempio la conoscenza della filiera del freddo, come mantenere la filiera del freddo, dove spesso facciamo errori. Bene, bene, la filiera del caldo, le contaminazioni crociate, in un tavolo non possono stare alimenti cotti e alimenti crudi, perché è facile. E diciamo, diciamolo in quale caso? Un esempio, se in un tavolo di lavoro, a casa, da me, o in qualsiasi casa familiare dove c'è la semplice mamma di famiglia, se si mette a cuocere il sugo con la carne, non può di conseguenza sul tavolo dove operano, manipolano alimenti, avere anche la frutta o le verdure, o nello stesso momento avere carne e pesce, perché innanzitutto, come è stato accennato prima, ogni alimento ha degli agenti specifici e ogni alimento può contaminare anche l'altro facilmente, anche nel semplice contatto di un tavolo di lavoro, anche piccolo. Ecco perché l'igiene è fondamentale. L'igiene significa non solo avere le mani pulite, ma anche stare attenti a queste... Anche a questo, per l'igiene si intende l'igiene della persona, l'igiene dei luoghi di lavoro, l'igiene dell'attrezzatura, ma attenzione, per fare qualità o per fare alta qualità c'è bisogno dell'applicazione dell'igiene e sono poche cose. Quello che ho detto prima, l'igiene degli ambienti di lavoro, della persona, dell'attrezzatura, il bagno, quando si va in bagno, lavarsi bene le mani, prima e dopo fatto i propri servizi. Ma lavarsene bene, perché spesso noi siamo... Lavarsene bene, lavarsene bene e chi opera nel settore della ristorazione pubblica o collettiva deve non solo sgrassarle bene, ma la deve anche sanificare bene. Ecco, tra gli ospiti più indesiderati nascosti nel cibo ci sono dieci parassiti di origine alimentare che lei ha elencato. Quali sono i più temibili? Dove si annidano? Allora, voglio completare un attimo la percentuale, perché prima ho parlato solo dell'abitazione privata. La percentuale dei luoghi dove si manifesta di più, poi viene di conseguenza la ristorazione pubblica nel 33% e poi vengono gli asili, le scuole, in questo caso si aggira intorno al 12%. La domanda che mi ha fatto lei per quanto riguarda i parassiti è una domanda molto bella e competitiva perché generalmente quando si parla di malattie trasmesse con gli alimenti nell'ambito della ristorazione pubblico o collettiva si parla generalmente di batteri o di virus, di parassiti se ne parla poco. E ha fatto bene prendere questo argomento, stimolare questo argomento perché è un argomento importantissimo perché spesse volte viene un po' abbandonato anche sotto il profilo di ricerca scientifica. Questo succede spesso nell'area medica, nell'area medica veterinaria noi abbiamo dei centri sperimentali anzi l'abbiamo proprio vicino, qua in zona abbiamo il Cremopar, è un centro sperimentale di parassitologia internazionale. Vede, i parassiti, io le posso solo dire questo, che nella sola Unione Europea si riscontrano circa 2500 focolai all'anno causati da parassiti di origine alimentare. Nella sola Unione Europea. Al primo posto? Al primo posto abbiamo l'Atenia, il secondo posto abbiamo l'Echinococcus. E poi abbiamo anche la trichina. Dove? In quali cibi? Allora, la trichina la troviamo in particolar modo nella carne suina, la trichina è una parassitosi che si riscontra in particolar modo nel suino e quindi si evidenzia nella carne suina poco cotta oppure degli insaccati poco stagionati. Però c'è da dire che la carne suina è controllatissima, è controllatissima dal mondo veterinario, in particolar modo nel mondo veterinario pubblico, perché un suino macellato viene di conseguenza anche sottoposto ad esami trichinoscopico proprio per la messa in evidenza di queste eventuali... Andiamo avanti anche con gli altri, gli altri parassiti? Poi abbiamo l'Echinococcusi, l'Echinococcusi ormai, comunque si, se ne parla sempre, ma si riscontrano sempre casi abbastanza eclatanti. Il problema di queste parassitosi è che aumenta la casistica perché in molte parti del mondo noi abbiamo dei dati epidemiologici, dati statistici reali e questo è il caso dell'Asia, è il caso di molti paesi dell'Africa dove non abbiamo centri di epidemiologia applicata proprio a queste parassitosi o a queste patologie emergenti nel campo della... Invece qui da noi abbiamo una... per esempio la Campania, in Campania la terza regione italiana dove c'è il maggior numero di luoghi dove si mangia, chi si ritrova, dopo Lombardia e Lazio, quindi è importante, è un grosso impegno per voi, per i medici, i medici veterinari... Io ho dei dati perché io l'ho estrapolati da un sistema che noi abbiamo creato noi, si chiama il sistema GISA in Regione Campania, creato dalla Regione Campania, servizio veterinario e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Da là a noi è il nostro filtro perché ogni controllo, ogni azienda viene registrata in questo sistema. In Regione Campania noi abbiamo circa 29.218 ristoranti. Io vi posso solo dire che nel 2015 noi abbiamo fatto come area veterinaria, come servizio di giri degli alimenti di origine animale, circa 800 controlli ufficiali nei ristoranti. Quali risultati? Io devo dire che in linea generale questo settore sta bene, abbiamo riscontrato solo 27 rilievi ispettivi, più che altro piccole cose che sono state sanzionate così, ma c'è stata una sola eclatante chiusura per gravi carenze igieniche della città. Quindi su 800 casi diciamo veramente quasi niente. In Provvigia di Salerno e in città di Salerno, quindi questo è un indice dove questo servizio è abbastanza, quindi anche evidenziato. Ecco, in questi controlli che voi fate nella filiera della ristorazione, io parliamo di ristorazione collettiva, cioè i cibi che vengono forniti agli ospedali, alle mense. Ecco, i vostri controlli, i controlli dei medici veterinari, dei medici e dei medici veterinari avvengono dove? Alla produzione o alla somministrazione? Dunque, avvengono sia nella produzione che nella somministrazione. Noi dobbiamo fare una distinzione. Quando parliamo di ristorazione, noi abbiamo una ristorazione commerciale, dove si parte dalla trattoria fino al ristorante 5 Stelle, lusso, eccetera. Poi abbiamo le nuove ristorazioni come i fast food, i self service, le ristorazioni etniche. Gli street food. Gli street food invece sono, diciamo, un capitolo un po' a parte, sarebbe il cibo da strada. Questo è un fenomeno che si sta sviluppando e aumenta enormemente col passare del tempo. Perché? Perché col cibo da strada, per il cibo da strada si intende la produzione di autofurgoni, a norma, dove si possono produrre, proprio nell'autofurgone stesso, cibi o piatti pronti da mangiare. Levendo di questo tipo di ristorazione, perché è un cibo dove costa poco rispetto alla ristorazione. E quindi sta prendendo piede, è legato alla crisi. Però ci sono alcuni punti che noi stiamo focalizzando, anzi quest'anno, cioè nel 2015, abbiamo aumentato i controlli proprio in questo settore. Perché ci sono piccoli punti critici da focalizzare in ogni qual modo. In particolar modo, perché non c'è sempre a portata di mano l'acqua potabile. Inoltre, essendo questi autofrugoni presenti su strade, su piazze, dove c'è un via vai di macchine o di automezzi che camminano, è facile che ci possa essere una contaminazione di metalli pesanti, in particolar modo il piombo. Ecco, a proposito di questi elementi esterni, abbiamo un minuto, un paio di minuti conclusivi. Accenniamo soltanto agli indifferenti endocrini, a questi materiali che ci circondano, da cui siamo circondati, poi magari lo affrontiamo dettagliatamente in un'altra occasione. Che cos'è che ci circonda? Allora, tutto quello che ci circonda si parte non solo dal mangiare e dal bere. Lei ha parlato di interferenti endocrini, lo dice la parola, interferenti endocrini, cioè che interferiscono col sistema endocrino. E quando si interferisce nel sistema endocrino, significa che comunque sia buona parte delle nostre funzioni organiche, vengono influenzate, alterate. E in particolar modo si agisce sull'apparato riproduttore e sull'apparato generale. Quindi, parliamo delle plastiche, dei metalli. Le plastiche in particolar modo, ma i derivati dalle plastiche, anche di alcuni indumenti, di alcune pendole che noi usiamo. O anche, non so, come vi rivediamo adesso, i contenitori di Petrapack. E' un argomento molto grande e complesso, quindi se vuole ne possiamo parlare. Lo affrontiamo assolutamente in una prossima occasione, stiamo esaurendo il nostro tempo, però è un discorso di grandissimo interesse che riguarda, non solo abbiamo capito, non solo il momento in cui andiamo fuori a mangiare, ma anche quando siamo a casa. Certo, certo. Quando siamo a casa, magari trascuriamo alcune norme che ci sembrano scontate. Comunque, la formazione. La formazione, il sapere, la conoscenza. Si. La formazione Grazie a tutti.